Sit-in di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell'ASP1 in programma davanti ai cancelli della Casa di Riposo dei Benedictis di Teramo. L'iniziativa è stata promossa dai sindacati Cigelle e Cisle Will alla luce della situazione attuale che fa registrare un ritardo nei pagamenti degli stipendi da parte dell'azienda pubblica dei servizi alla persona costituita dalla Regione Abruzzo. L'ASP1 infatti gestisce le case di riposo di Teramo, Nereto e Civitella. Le organizzazioni sindacali in una nota riferiscono che dopo mesi dall'ultimo incontro in prefettura si continua a non vedere una soluzione concreta ed un reale interessamento delle parti in causa al problema stipendi. È necessario dunque per i sindacati ribadire con una forte protesta l'urgenza di sanare una situazione diventata insostenibile per i dipendenti costretti a lavorare senza la sicurezza del salario a fine mese. Sono circa 350 i lavoratori, diretti e indiretti, che prestano servizio nelle tre case di riposo Teramane attraverso due aziende. La Polis, che si occupa di tutti i servizi generali tranne la ristorazione, che è gestita invece dalla PAP. Il problema non è così grave come affermano i sindacati, dichiara Roberto Canzio, commissario regionale dell'ASP1. Questi lavoratori percepiscono lo stipendio ogni mese, l'ultimo due giorni fa. Il nodo riguarda tre stipendi da sanare del 2020, che le ditte non hanno potuto pagare perché a loro volta non sono state pagate. Intanto, conclude il commissario Canzio, su mio impulso è in corso l'espletamento delle gare di affidamento dei servizi delle tre case di riposo della provincia di Teramo. Un passaggio obbligato dopo anni di proroghe.